Ciao amici di Arcadia, oggi ci trovate qui con questi splendidi outfit a noi archeologi perché quando non organizziamo le visite a noi di Arcadia ovviamente andiamo a seguire degli scavi. Oggi, mentre seguivamo i nostri scavi in cantiere, ci è venuto in mente di farvi un piccolo indovinello, riferito al nostro prossimo evento. Dove andiamo Maria Luisa? Andiamo al Museo delle Mura che si trova a Porta San Sebastiano, perciò vi aspettiamo domenica 11 marzo, raduno alle ore 10 e partenza 10.30, ma prima appunto dovete risolvere questi indovinello. Allora, al Museo delle Mura, che si trova come diceva Maria Luisa a Porta San Sebastiano, si trova gratuito, un santo, che è importante per la storia di Roma perché ha protetto la città durante un grande evento storico. Salvo, vogliamo darvi una mano? Un aiutino piccolo piccolo, sì. Non esageriamo però, un più si aiuta. Già gli hai detto tanto. C'è l'utile? Allora, ecco il vostro aiutino. Diciamo che è un santo, ma è qualcosa di più di un santo perché è un arcangelo. E basta, vi ho detto tutto. Abbiamo aiutato già troppo. Già tanto. E per il primo che arriverà con la soluzione dell'indovinello ci sarà un simpatico gagen di Arcadia. Perciò vi aspettiamo domenica 11 marzo alle ore 10 al Museo delle Mura a Porta San Sebastiano. Non mancate! Ciao! Ciao!